una persona qua una persona è cercato è un giro qui è un giro qui è qua, è c'è qualcuno qua si, si, qua qua, qua qua, qua, qua allungalo qua, allungalo qua guarda, allungalo qua c'è una persona qua la persona dentro c'è un giro qui la mia gira è tutto il ponteggio che mi lasciano solo guarda, io non devi muovere, non ti muovere qua, capo, c'è una persona allungalo qua, qua sotto qua, proprio qua vai se è girato al contrario magari potreste che si riesce a fare qualcosa ma come costo carino? attento, non devi arrivare qua è caduto proprio un scavandrone da qui l'ascensore è tancato la passeggiata è tutta la passeggiata dell'ascensore sapete che cosa è questa? no, 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 quello è sopra poi manca papà devo andare in testa ma è mancato tutto un passo con l'ascensore la parte in casa vai, 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 vai amo, guarda, è caduta una passeggiata a canto ma non lo so perché lì, 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 lì lì, 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 lì Grazie a tutti.